Ciao a tutti ragazzi e bentuali sul canale, come va? Spero che state bene e che stai trascorrendo una splendida giornata. In questo video vi voglio presentare Mateusz Prajlik, giovane centrocampista offensivo classe 2000 dello Slask Pro Club che, ad ora che sto gestando il video, dovrebbe firmare per l'Elas Verona, operazione che si aggira sui 2 milioni di euro. Qui andremo a vedere insomma chi è il giocatore e come potrebbe inserirsi nell'organico di Tudor. Prima però di andare a lasciare questioni, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, avete campioni di notifiche per i miei sempre aggiornati, supportate il mistero dei gameplay, date uno sguardo anche al mio secondo canale, link sotto in descrizione, di M Music dove parla soltanto di musica. Ma veniamo a noi. Chi è questo Mateusz Prajlik? Centrocampista offensivo di 184 cm dello Slask Pro Club che nella stagione 19-20 è esordito nella prima divisione polacca l'extraclasa giocatore che appunto è cresciuto nello Slask e che ha nella fisicità e soprattutto nella sua grande visione di gioco le sue peculiarità. 184 cm, un giocatore che prettamente ha giocato come centrocampista offensivo, quindi come numero 10, raramente insomma un po' come mezza offensiva. Come vi ho detto, adesso ripete, un'ottima visione di gioco e sa vedere determinati di passaggio un po' prima degli altri. A volte la giocata gli riesce, a volte la giocata no, ma la cosa importante è che quella linea lui la veda perché sul fondamentale della buona riuscita di un passaggio ci si può lavorare, ma sul mindset di vedere una certa traiettoria prima degli altri, insomma questa cosa non si può insegnare. Un giocatore bravo, abbastanza veloce per la mole, bravo a saltare l'uomo, quindi abile a creare superiorità numerica. Un giocatore che sa giocare bene, ovviamente di desto perché il suo piede è forte, ma anche i discretamenti di mancino, anche se in questo fondamentale deve ancora migliorare e secondo me generalmente può migliorare ancora perché veramente nei suoi piedi ha tanti assist in più e tanti gol in più, perché ha capacità di inserimento e soprattutto capacità di occupare l'area di rigore. Questa è la cosa principale, sa posizionarsi in giusto modo in area di rigore, sa mettersi dietro il difensore, sa nascondersi bene quando deve e soprattutto sullo stretto al limite dell'area di rigore veramente potrebbe essere un giocatore molto funzionale e molto diciamo concreto per fornire assist. In un'ottica di Hellas Verona potrebbe essere, diciamo così, un giocatore molto importante perché fondamentalmente la batteria dei quartisti di Hellas Verona è comunque abbastanza sguarnita perché vi è un Barak che difficilmente lascerà in questi ultimi di mercato, però già a luglio potrebbe lasciare la squadra, un Caprari e in più un Canceglieri, non contando Tonino Ragusa che ormai insomma è un po' fuori dal progetto, quindi Prajlik andrebbe a coprire quel buco di 4 trequartisti in rosa, contando che Lasagna non ce lo vedi in quel ruolo, però un giocatore, ripeto, che soprattutto con una punta un po' più tecnica può interagire in modo molto concreto, in modo molto ficcante in fase di realizzazione e comunque anche di scambio ai fini insomma di andare a segno o uno o l'altro, quindi o Prajlik o l'attaccante in questione, un giocatore che soprattutto anche in fase di contropiede, data la sua buona velocità, può essere utile sia come terminale offensivo in ripartenza, quindi posizionandosi nel ruolo di ricevere il pallone, ma anche nel far ripartire azione, perché in fase di transizione offensiva con la sua abilità tecnica, col suo buon piede destro, sa ben fornire, sa ben orientare il contropiede, un giocatore che ripeto può ancora migliorare tanto, però ad ora già è un buon profilo, comunque un giocatore classe 2000, sì giovane, ma non giovanissimo perché comunque quest'anno ricompirà 22 anni e quanti giocatori sono esplosi già in quest'età dalla sua parte che ha un ruolo già ben definito, quindi quello di trequartista, il discorso è da vedere se riuscirà a amalgamarsi con un altro trequartista in campo, comunque lui può giocare tranquillamente nel 4-2-3-1, ma giocando con un trequartista molto vicino, quindi portato a dividersi lo spazio in campo, dobbiamo vedere questa cosa, abbiamo già visto quando ho parlato di Miranciuk che questo passaggio all'Atalanta non gli ha giovato tantissimo perché lui era abituato a giocare come numero 10 singolo, naturalmente l'Atalanta con due trequartisti o comunque con una seconda falsa punta, una scusa, una falsa seconda punta, a volte portava un attimino a intralciarsi, ma ripeto lui potrebbe essere anche molto utile come eventuale mezzara in altri moduli, come ad esempio il 4-3-3, non tanto in un 4-3-1-2, però ripeto soprattutto anche in un 4-3-1-2 il ruolo di trequartista potrebbe essere veramente il suo, un investimento neanche tanto oneroso, 2 milioni di euro, che va a coronare un mercato che andrebbe a coronare un mercato Lellas, poi magari a fine calcio mercato farò le mie pagelle, però un mercato intelligente perché già Lellas è rinforzata con Panagiotis Rezos, quindi un giocatore veramente interessante questo Prajlik, che potrebbe sicuramente dare una mano ai Gortudor, sono veramente curioso di vederlo in Serie A, onestamente ci punterei, amici fantacalcisti, ci punterei su questo giocatore che quando dovesse arrivare, perché veramente interessante, potrebbe fornirvi bonus diciamo in fase di assist, in fase di rizzativa, ma soprattutto i punti nei quali deve migliorare il giocatore sono proprio questi due, realizzazione e diciamo nel realizzare l'assist, perché veramente ha potenzialità e a margini di miglioramento, veramente importante, qui importanti squadre alla voce, ma è il terzo video che registro oggi, quindi quando voi lo vedete per me è già il terzo di una giornata, quindi capitemi un po' come sono a livello vocale. Spero che il video vi sia stato utile, mi raccomando c'è un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campagna delle notifiche, per rimanere sempre i giorni sull'inizio del canale, superate le mie serie di gameplay, mi raccomando, commentate i tifosi della Svelone e non, se vi piace l'acquisto di Prajlik, se lo conoscete o no. Vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!